Spazzola di metallo e raschietto in una mano, carta vetrata e vernice antiruggine nell'altra, poi la pettorina gialla sulle spalle e la tessera identificativa al collo, ma soprattutto una notevole dose di impegno e volontà di mettersi al servizio del bene comune. Così Pietro Ciambrello e Diana Barbuta sono entrati in azione in via Manzoni a Piacenza per la sistemazione della ringhiera della scuola Anna Frank, una recinzione malmessa e degradata che grazie alla loro opera di volontariato tornerà a splendere. Pietro e Diana sono infatti due dei circa 20 aderenti al baratto amministrativo, il progetto comunale che prevede a fronte dello svolgimento di alcune mansioni di pubblica utilità una riduzione del 50 per cento sull'Atari a favore dei partecipanti. Oggi stiamo grattando tutta la ringhiera che è arrugginita, ha delle bolle di ruggina anche abbastanza evidenti e la porteremo a nuova, gli diamo una nuova vita e un nuovo colore. Un impegno che è frutto di un'iniziativa promossa lo scorso settembre dalla giunta Tarasconi il bando di partenariato sociale rivolto a tutti i cittadini, maggiorenni, residenti in città o che siano proprietari, affittuari o fruitori di immobili sul territorio comunale tra gli ambiti previsti dalla cura delle aree verdi a quella dell'arredo urbano fino alla piccola manutenzione degli edifici scolastici. In cambio un vantaggio fiscale sulla tassa dei rifiuti. Certo anche questo, quindi aiuta, ci stimola sicuramente. Siamo coinvolti all'interno della macchina comunale e questo ci fa molto piacere. Perché comunque è un bene di tutti e va curato e tenuto. Il comune continuerà ad accogliere le prossime candidature fino al massimo di 100 aderenti.